Ancora sangue sulle strade. Questa mattina a Cosenza due giovani, Salvatore Candido, 19 anni, e Salvatore Altomare, di 20, sono morti cadendo dal ciclo motore su cui viaggiavano. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 4.30, mentre i due ragazzi stavano percorrendo una via centrale di Cosenza. I due, che erano noti alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, transitavano su Viale Cosmai, probabilmente in direzione di Rende e quasi certamente a velocità sostenuta. È stato nei pressi di una rotonda che il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare, andando a schiantarsi contro il monumento dedicato a Sergio Cosmai, ex direttore del carcere Cosentino ucciso per mano dell'andrangheta. Nonostante entrambi indossessero il casco, l'impatto è stato fatale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi che serviranno a chiarire se il motorino sia sbandato sulla strada in leggera discesa in quel tratto, o se abbia prima urtato il ciglio del marciapiede e si sia poi ribaltato o addirittura se sia coinvolto un altro mezzo. Ipotesi quest'ultima che appare remota, almeno stando ai primi accertamenti. Le forze dell'ordine contano di sapere di più, soprattutto a seguito di colloqui con qualche testimone. Il ciclomotore su quale viaggiavano Salvatore Candido e Salvatore Altomare era di proprietà di una terza persona, individuato in un primo momento come una delle vittime.